Portare a Parona, paese che soffre dal punto di vista ambientale, le guardie ecologiche volontarie. La proposta viene dal consigliere di minoranza Renato Soffritti che ha presentato un'interrogazione in merito. L'idea sarebbe quella di affidare alle guardie ecologiche volontarie la vigilanza su alcuni problemi che, a detta dell'esponente di opposizione, sarebbero particolarmente avvertiti a Parona. In primis l'abbandono di rifiuti nei campi o in zone isolate del paese dove non di rado si è anche assistito al deposito abusivo di lastre di amianto. Soffritti cita anche l'inquinamento di roggie canali con la conseguenza che sempre più spesso nei corsi d'acqua risultano proliferare i topi e le nutrie. Altro tema è il taglio incontrollato di legna da ardere che impoverisce i boschi situati attorno al paese. Le guardie ecologiche volontarie infine potrebbero essere impiegate per un'opera di osservazione dei movimenti dei cinghiali onde evitare pericolosi avvicinamenti al centro abitato. Soffritti insiste sul fatto che una convenzione con le guardie ecologiche volontarie non sarebbe particolarmente costosa per il comune e chiede di chiamare in causa Lomellina Energia, la società che gestisce il termovalorizzatore. Poiché sono stati ridotti i contributi da parte di Lomellina Energia, fa notare il consigliere, non sarebbe il caso di strappare un accordo che sia di compensazione ambientale in virtù di un nuovo impianto di essiccazione e incenerimento fanghi. Per il contrasto all'abbandono di rifiuti e la pulizia delle discariche abusive, intanto Regione Lombardia ha appena stanziato 2,4 milioni di euro. Andranno a province e comunità montane per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e strumentazioni. Un modello sperimentale, ha detto l'assessore agli enti locali Massimo Sertori, di meccanismi di raccolta, rimozione e trattamento rifiuti su aree pilota, accompagnato da investimenti diretti a disincentivare e contrastare il fenomeno individuali e responsabili dell'abbandono di rifiuti.